Domani test di lusso per i Biancazzurri, ore 17.30, Alpatini di Castelli Sangro, il Pescara di Auteri affronterà il Napoli di Luciano Spalletti, diretta su Sky oppure su Canale 8. Per quanto riguarda invece il mercato, poi torneremo su questa amichevole, rimane complicata la trattativa per il ritorno di Mirko Pigliacelli, di proprietà del Craiova Club rumeno, ricordiamo classe 1993, però insomma è stato già ingaggiato un portiere di indubbio spessore per la categoria come Raffaele Di Gennaro. Innervare il centrocampo in questo momento è la priorità, con Valdifiori e Busillato in uscita, i centrocampisti a disposizione di Auteri sono Diambo, Pompetti, che sta facendo per inciso molto bene, e Memusciai. Da tempo gli obiettivi sono Derisio e Armellino, sul primo in forza al Bari tutto fermo, nessun passo avanti, Armellino in uscita dal Monza sta per firmare con Modena, chiusura prevista tra lunedì e martedì, classe 89 che Auteri, ricordiamo allenato a Matera, stagione 2016-2017, sottoscriverà un biennale con opzione di rinnovo in caso di promozione in B degli emiliani. Attenzioni puntate sul ritorno di Giuseppe Rizzo, classe 91, 34 presenze con la Delfino, 11 in A nel 2013, 23 in B nel 2014, ex Perugia-Vicenza-Reggina in C, quasi tre anni a Catania, lo scorso anno, la scorsa stagione della Triestina, 28 presenze, un gol a scadenza, il suo contratto 30 giugno 2022, trattativa in stand-by. Rosa naturalmente da completare, servono un centrocampista, un difensore centrale, al momento sono cinque, Ianes, Drudi, in grosso frascatore e il baby Veroli, tenuto in grandissima considerazione da Auteri, ricordiamo classe 2003, che lo scorso anno è stato tra i protagonisti della primavera di Iervese, che è tornata nel campionato di primavera 1. Insomma, dal punto di vista numerico c'è bisogno di un altro difensore centrale, si torna per questo a parlare di Balzano, che può giocare da centrale e di destra, come già accaduto lo scorso anno con Oddo, e naturalmente qualora ve ne fosse la necessità anche da laterale su entrambe le fasce, ovvero il ruolo naturale del classe 86. Sarebbe probabilmente la soluzione più logica, tra l'altro Balzano negli anni ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, di certo un esempio per i più giovani, riepilogando un centrocampista, un difensore centrale, un esterno d'attacco, Panico nel frattempo si è accordato con la Juve Stabia, Mikovski tornerà ad Avellino, e una prima punta da doppia cifra, su Melchiorri pressing del Siena, ma manca almeno per ora l'intesa sull'ingaggio, parti infatti distanti, dal Pescara nessun segnale, tutto rimandato a dopo Ferragosto. Non ci sono riscontri su Edoardo Vergani, punta centrale, classe 2001, scuola Inter, lo scorso anno in prestito al Bologna. Dicevamo dell'amichevole di lusso in programma domani alle 17.30 a Casteldisangro, Pescara-Napoli in diretta su Sky e su Canale 8. Questi prezzi, tribuna 30 euro, distinti 25, curva nord 20 euro, curva sud destinata ai tifosi del Pescara 20 euro. Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento e mantenere un distanziamento di sicurezza di almeno un metro. Per accedere all'impianto, gli spettatori dovranno obbligatoriamente essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. Tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni. Le ultime sulla probabile formazione che sarà schierata da Gaetano Auteri. Ebbene, non stanno al meglio della condizione sia De Marchi che Ferrari. Dunque potrebbe giocare da punto di riferimento centrale. A questo punto giocherà sicuramente lui, ovvero Marilungo. Ai lati di Grazza che sta facendo, lo ripetiamo, molto bene. E a sinistra Dulci. Staremo naturalmente a vedere partita che preparerà il Pescara al primo match ufficiale di Coppa Italia in programma giovedì 19 agosto. L'adriatico Giovanni Cordacca. La partita è stata anticipata contro l'Olbia di Massimiliano Canzi. Tra l'altro gli ex sono Cocco e l'abruzzese Giandonato che è cresciuto nelle giovanili del Delfino ex Lanciano. Ha giocato un anno nei giovanissimi. Insomma, Pescara-Olbia è il primo impegno ufficiale della stagione. Giovedì 19 agosto con inizio alle 20.45. Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Turno ad eliminazione diretta.